Assenti anche questa volta il direttore dell'ASL Salerno Mario Iervolino e il direttore sanitario dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania nella trasmissione tv organizzata dall'emittente Cilento Channel, incentrata sulle problematiche dell'ospedale di Agropoli. Assente con giustifica il sindaco Adamo Coppola rappresentato dall'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi che ha fatto gli onori di casa, presenti inoltre nel salotto televisivo Giovanni Basile del comitato Salviamo l'ospedale di Agropoli Michele Spinelli dell'associazione Orizzonte, Mario Capo e Emilio Malandrino esponenti politici di Forza Italia Agropoli Gisella Botticchio e Mario Pesca, consiglieri comunali di Agropoli Massimo Laporta, presidente del consiglio comunale di Agropoli si è partiti dalle considerazioni espresse nella trasmissione precedente dagli ospiti dove alla domanda su quale sarà il futuro di Agropoli sono scaturite due risposte, ovvero l'emergenza Covid che non dà la possibilità di attivare i servizi annunciati nel 2020 e nello stesso tempo la carenza dei medici con le conseguenziali non risposte ai concorsi indetti dall'ASL da qui il dibattito ad intervenire con una prima notizia interessante l'assessore Roberto Mutalipassi puntando l'attenzione sul bilancio dell'ASL che riceve ogni anno trasferimenti per circa 2 miliardi di euro Nella sanità i soldi ci sono, noi parliamo della nostra ASL, di un ASL molto importante perché parliamo di un ASL che gestisce un bilancio di quasi 2 miliardi di euro e per la precisione 1 miliardo e 900 milioni 2 miliardi? quasi 2 miliardi di euro quindi su un bilancio della regione della sanità che rappresentano sempre, parliamo di 8 milioni quindi è una bellissima fetta ma c'è di più perché noi adesso non dimentichiamoci che stiamo in un periodo in cui stanno per arrivare ancora altri denari per la sanità quindi è veramente l'occasione da non perdere, da non mancare quella di riuscire a, oltre che a spendere bene e meglio i soldi che già l'ASL che già gestisce, che abbiamo visto che non sono pochi di questi qua la cosa strana, strano pure da sottolineare è che per quanto riguarda la voce di retribuzione stipendi parliamo di 410 milioni di euro quindi circa il 20% quindi il resto è tutto per rimacchinare la manutenzione, gli appalti all'esterno eccetera eccetera Giovanni Basile rimarcando che i soldi ci sono ha affermato che manca la programmazione il fatto che oggi si parli di covid come elemento centrale per poter riattivare una struttura fa capire che non c'è programmazione ci devono spiegare anche perché nel periodo pre-covid o comunque ridosso del covid Agropoli aveva la tipo, la terapia intensiva post-operatorica con delle persone che percepivano regolare stipendio quando le sale operatorie non sono mai entrate in funzione quindi quando ci vengono a dire che in sanità non ci sono i soldi non è assolutamente vero i soldi vengono spesi in maniera sbagliata e la realtà agropolese certifica l'assenza di programmazione abbiamo fatto diciamo dei piccoli passi avanti ma sicuramente senza programmazione non si va da nessuna parte quindi oggi fare questo ragionamento a livello politico è quello più sbagliato possibile cioè di dire apro qualcosa per far vedere che qualcosa è aperto ma in realtà non dai una risposta quando noi abbiamo sempre chiesto e stiamo chiedendo un rientro nella rete d'emergenza noi non lo vogliamo su carta perché potrebbe essere semplice è un qualcosa di importante che si chiede perché Agropoli deve tornare a ricevere i codici rossi deve dare una risposta sanitaria e deve eventualmente avere le terapie intensive però se non c'è tutto quello collegato che salva le vite che serve avere la terapia intensiva facciamoci un cimitero allarghiamo il cimitero che forse diamo una risposta migliore a quelle persone che poverine col codice rosso accederanno al pronto soccorso di Agropoli Mario Capo invece ha insistito sul piano ospedaliero confermando la tesi che l'ospedale di Agropoli non rientra nella rete delle emergenze tutta questa programmazione contenuta nel piano nell'ultimo piano ospedaliero onestamente mi sa tanto di fumo per cui quando dico Agropoli non è nella rete dell'emergenza dico Agropoli non è di fatto nella rete dell'emergenza al di là della previsione del piano e non lo potrà essere se questo piano non verrà cambiato quindi non aspettiamo l'attuazione di questo piano bisogna insistere per cambiare il piano del 2018 e ciò che noi chiediamo ciò che la popolazione chiede cos'è? è quello di poter avere un pronto soccorso dove trattare in tempi utili l'emergenza in nessuna delle reti tempo dipendenti è previsto il presidio ospedale di Agropoli nessuna quindi ribadisco e concludo l'attuazione di questo piano sarà un'attuazione farsa non è questo il piano che fa rientrare Agropoli in una rete vera di trattamento dell'emergenza aggiungo l'ultima cosa essendo noi stati accorpati con Vallo della Lucania anche questa storia del personale è una storia che dovrebbe pure finire è un'altra diciamo come dire un'altra butata per trovare una pezza a colori se faccio un'osservazione da cittadino quale medico arriverebbe nell'ospedale di Agropoli sapendo che rispetto a quel presidio ospedaliero non c'è una programmazione? cioè io vengo da Napoli mi stabilisco ad Agropoli vado a lavorare nel pronto soccorso chiamiamolo pronto soccorso e poi fra sei mesi non so che succede in questo pronto soccorso nessun medico farebbe questo quindi il rifiuto o la mancata adesione da parte del personale medico e infermeristico a lavorare nell'ospedale di Agropoli non è una causa è l'effetto è l'effetto della mancata programmazione bisogna risvegliare le coscienze di chi deve far riaprire l'ospedale questo l'appello dell'avvocato Spinelli una manifestazione credo che resti sempre fini a se stessa mi dispiace che non partecipano effettivamente effettivamente non partecipano a grossa parte del popolo agropolese anche dei paesi limitrofi perché ovviamente per portare avanti talune istanze è necessario che ci sia uno zoccolo che sia dato che sia dato dalla dalla cittadinanza però credo che da solo la manifestazione non possa risvegliare le coscienze di chi effettivamente si trova poi a dover far riaprire l'ospedale insieme alle manifestazioni credo io ci debba essere anche le istituzioni cioè gli organi politici i quali devono portare la bandiera avanti devono portare lo striscione riapriamo l'ospedale di Agropoli perché è un bene necessario è un bene importantissimo per la salute di tutti i cittadini anche dei paesi limitrofi e soprattutto anche dei ragazzi disabili i quali già hanno una patologia di per se stessa e non dovrebbero essere aggravati da una situazione che è questa attuale quindi popolo agropolese svegliamoci insieme ai politici Emilio Malandrino si è rivolto ai sindaci del territorio e li ha spronati ad una battaglia corale vera io ritengo che un'azione sinergica di un sindaco importante come il sindaco di Capaccio che è rappresentante della regione Campania molto vicino al governatore il sindaco di Agropoli che ha un incarico importante nel comitato dei sindaci della ASL e i sindaci del territorio sinergicamente se facessero una battaglia vera importante giorno per giorno quotidianamente forse qualche risultato lo potremmo ottenere anziché ottenere l'ennesima riapertura di un ospedale falso per il prossimo appuntamento elettorale Gisella Botticchio dal canto suo ha aperto alle forze politiche per fare fronte comune sulla battaglia ci stanno miliardi di danaro fiumi di danaro pubblico però l'ospedale di Agropoli rimane chiuso allora quello che voglio dire a Mario Capo a Michele Spinelli a Giovanni Basile a Mutali Pass opposizione maggioranza non ci sono colori non c'è destra e sinistra dobbiamo fare fronte comune Massimo Laporta infine ha puntato il dito contro il direttore generale dell'ASL Mario Iervolino e il direttore sanitario dell'ospedale San Luca Adriano De Vita vogliamo essere costruttivi il problema l'avete centrato il perché non si attua quello che è previsto nel piano sanitario ce lo deve spiegare Mario Iervolino e il direttore sanitario dei presidi a Agropoli Vallo dove caro Giovanni Agropoli e Vallo sono insieme sono associati grazie al piano approvato noi da questa discussione dobbiamo andare avanti non torniamo indietro noi dobbiamo risolvere il problema con il direttore sanitario ci deve dire perché alcune attività specialistiche non vengono dislocate nel presidio di Agropoli aggregato a Vallo questa è la discussione che noi tutti dobbiamo fare Emilio perché fare polemiche la gente stanga noi siamo cittadini alla pari di tutti coloro che hanno speriamo mai ma l'esigenza della struttura sanitaria il dibattito sull'ospedale di Agropoli continuerà in televisione anche nelle prossime puntate dove sono stati invitati sindacalisti politici regionali anche e soprattutto cittadini grazie a tutti